Chiudo, grazie. Grazie Suleiman, grazie Jennifer. Prima di cominciare volevo giusto chiedere ai relatori se riusciamo a stare nella mezz'oretta di ogni intervento che sarebbe positivo riuscire a lasciare un po' di spazio al termine per un po' di discussione. Vi indicherò quando mancano cinque minuti. No, beh, cercherò di essere abbastanza rigorosa. Ok, quindi passo la parola subito a Riccardo Clerici, responsabile dell'ufficio protezione di UNHCR che abbiamo già avuto il piacere di ospitare in precedenti iniziative e lo ringraziamo sempre per la disponibilità. Riccardo Clerici fornirà un quadro della situazione nell'area mediterranea contestualizzandola all'interno del contesto più internazionale alla luce anche del Global Compact sui rifugiati. Salve, ciao a tutti, buongiorno. Sì, grazie ancora alla Regione Asilio in Europa per l'invito. È il terzo anno che ho veramente il privilegio di venire qui tra voi in questi convegni che sono molto intensi, ricchi di informazioni, dati. E con gli organizzatori abbiamo deciso, per quanto i temi italiani siano parecchi e molto interessanti e molto complessi, di concentrarsi un po' sul respiro internazionale, il mediterraneo, ma soprattutto i global trends che sono usciti qualche giorno fa, li avrete forse sentiti. Due parole su Libia e Niger, due paesi che nel dibattito italiano, ma anche per noi sono particolarmente importanti, per finire sul Global Compact. ha approvato l'anno scorso, tra cui i punti di forza o di novità del Compact. C'è sicuramente un ruolo importante nella partecipazione e consultazione, ma veramente nella rappresentazione dei rifugiati, quindi grazie anche per avere dato spazio agli amici di Cresci con noi, Jennifer e Soleman. Quindi iniziamo con i dati, magari chiedo al collega di farli partire, vado abbastanza velocemente, sono delle cifre per inquadrare il fenomeno, perché poi la domanda sui temi che i colleghi poi tratteranno, dell'Italia, al SAR, il tema grosso rispetto alle politiche anche italiane è che quando si amplia la prospettiva si capisce che le crisi mondiali di rifugiati non solo non si sono risolte, ma sono in peggioramento e quindi è sotto questo lente che vanno viste anche le politiche europee o italiane in questa fase. La cifra attuale di persone che noi definiamo di nostra competenza è cresciuto rispetto all'anno scorso e abbiamo superato i 70 milioni, ancora un'altra volta il numero più alto dal secondo dopoguerra, suddivisi per le categorie che ben conoscete, i rifugiati, cresciuti anche loro, richiedenti asilo, e c'è stato un aumento considerevole nelle crisi che adesso andremo a vedere per ciò che riguarda gli sfollati interni, i cosiddetti IDPs. Con la slide successiva diamo rappresentazione a quello che dicevo, cioè se pensate che anche solo dal 2009, ma sicuramente negli ultimi 10-20 anni, l'aumento è stato enorme, quasi raddoppiato, e come vedete tra tutte le categorie, come vi accennavo, gli sfollati interni soprattutto caratterizzano questo aumento. Con la slide successiva, che magari è più di un patto mediatico, però ci dice come negli ultimi 10 anni la media di displacement per giorno è di 37 mila persone, quindi è una cifra sicuramente significativa, sempre da leggere anche quando parliamo dei numeri, poi rispetto a quello che è il dibattito pubblico, ai concetti e alla narrativa dell'invasione, dei numeri italiani, parliamo di 37 mila persone al giorno come media. I paesi di origine, penso che vista la competenza poi di questa platea siano quelli noti, non ci sono grandi novità, vedete anche il paragone 2018-2019, c'è stato un ulteriore aumento per ciò che riguarda le persone rifugiati provenienti dalla Siria, ma poi i paesi sono quelli noti di crisi che vanno avanti oramai da tempo, le cosiddette crisi protratte, Afghanistan, Sud Sudan, rientra e vedete l'aumento anche sul Sudan, gli eventi delle ultime settimane, ultimi mesi, Somalia, Eritrea. Faccio notare, mi ricollego a quella che è la premessa e forse il messaggio di questa prima carrellata di numeri, è quello che dicevo, le crisi continuano, crisi che afferiscono fortemente a quella che è chiamata la rotta del Mediterraneo centrale e che inevitabilmente guardano per una possibilità di fuga al Mediterraneo, al Sud Europa, all'Italia, all'Europa in quanto tale. Con quella successiva, anche qui penso informazioni che in parte sono note, ma che è sempre opportuno ripetere, cioè quali sono i paesi che ospitano il più grande numero di rifugiati sfollati e via dicendo e come vedete, e un po' mi sono sorpreso anche io, vi dico la verità, in questa lunga lista c'è solo un paese europeo che si chiama Germania che riflette la cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015, quindi quel milione di rifugiati, soprattutto siriani, è qua riflesso, però per il resto il tema che noi portiamo avanti da sempre, che si lega al Compat, di cui parleremo tra poco, cioè quella della solidarietà a livello internazionale, ci dice ancora che l'85% se non di più dei rifugiati al mondo si trova nei paesi adiacenti alle zone di crisi, nei paesi di solito con problemi e fragilità loro e non in Europa o nei paesi industrializzati. Questa slide offre un altro angolo di lettura sempre importante per il debattito pubblico sull'invasione perché ci dice ok rispetto a questi numeri assoluti che abbiamo visto qual è poi il peso sulla società se paragonato a in questo caso l'unità di misura su 1.000 abitanti, anche qui vedete al di là di Malta e Svezia, Svezia anche essa si è caricato un carico di rifugiati negli ultimi in parecchi anni importante, Malta per le sue dimensioni, ma per il resto la vera, fatemi dire, invasione anche se non è stata dichiarata come tale, ha colpito paesi come il Libano, la Giordania, la Turchia, dove la razio rispetto agli abitanti è enorme, io la trovo straordinaria rispetto al Libano, quasi il 20% e questo ci dà un senso anche, uno strumento nel dibattito pubblico attuale così politicizzato ma così anche poco preciso e accurato che queste cifre siano ricordate a chi magari se le dimentica. La slide successiva parla dei ritorni a casa, come sapete le soluzioni per i rifugiati anche secondo il nostro linguaggio sono sostanzialmente tre che è l'integrazione nel paese d'asilo ed è forse quello che riguarda il numero maggiore di persone ma poi ci sono altre due opzioni una che verrà discussa anche dopo sui canali umanitari e cioè la soluzione in un paese terzo resetment canali umanitari ma anche il ritorno nel proprio paese. Cosa ci dice questa slide? Ci dice un altro dato fondamentale che se e chi ha buona memoria in un periodo precedente c'erano alcune crisi dei margini di soluzione per cui alcuni ritorni si potevano effettuare rispetto alla narrativa attuale anche del aiutiamoli a casa loro che vuol dire aiutare quei percorsi di pace di stabilizzazione di crescita e di sviluppo economico i ritorni come diciamo noi dignitosi in sicurezza sono in una fase fortemente crescente l'anno scorso circa mezzo milione ma rispetto alla cifra di 70 milioni le condizioni per tornare non ci sono il che ci pone una domanda se la comunità internazionale con gli stati più influenti ha mantenuto quell'impegno e quelle promesse sulle cosiddette root causes cioè cercare di risolvere le casi dei conflitti e penso che la risposta imparte questo grafico ce la dia quello successivo invece tocca l'altro aspetto delle soluzioni durevole per i rifugiati che è quello del rinsediamento che a me personalmente lascia sempre molto deluso i bisogni di rinsediamento che noi valutiamo per i rifugiati che è la linea blu sono cresciuti negli anni e vedete a quest'anno nel 2018 veniva stimata intorno a un milione e trecentomila persone che sono rifugiati ma tra i più vulnerabili che per ragioni varie con delle categorie ben definite dalla sicurezza alla vulnerabilità dovrebbero essere portati in un paese diverso dal loro paese dal paese di asilo di primo asilo e la risposta complessiva mondiale sto dicendo tutti insieme le grandi potenze è la linea rossa in forte decrescita l'anno scorso vado a memoria circa 70.000 persone sono state reinsediate e anche immagino se ne discuterà dopo se ci aggiungiamo i numeri piccoli delle sponsorship dei canali umanitari tutte prassi molto utili molto importanti la cifra con cui la comunità internazionale si fa carico di alleggerire il peso sui paesi che abbiamo visto prima risulta essere ancora molto molto limitato andando avanti questo è il dato a cui facevo riferimento prima degli sfollati interni che è aumentato negli ultimi anni solo un attimo quella indietro anche qui i paesi che conosciamo perché noi pensiamo sempre al rifugiato cioè chi attraversa un confine internazionale ma su questi stati poi dobbiamo anche dare la lettura dei cittadini di questi paesi che per gli stessi conflitti si trovano a spostarsi internamente vedete in primo piano la Colombia in queste slide non emerge ma l'altra crisi straordinaria che magari qui arriva poco un po' attenuata perché non ci ha ancora colpito direttamente quella del Venezuela vado anche qui a memoria siamo a 3 milioni e mezzo di persone attualmente fuori dal paese e i colleghi che ci descrivono la situazione parlano di uno stato in grandissima difficoltà quello che ritorna a noi magari è il posizionamento politico rispetto ai due liter Maduro e il suo avversario ma c'è una popolazione in uno stato di sofferenza straordinaria in cui le istituzioni stesse sono diciamo eufemisticamente molto fragili e quindi questo dà spazio a violenza bande tutta la criminalità anche nei paesi circostanzi la crisi del Venezuela è importantissima e questa forse diventerà più rilevante in Italia perché c'è al di là di un numero di italiani in Venezuela o molti di origine italiane c'è un flusso sulla Spagna molto importante si stima circa 200 mila persone e a Milano la questura già registra un flusso interno all'Europa di venezuelani quindi se ne sentiremo parlare è perché è solo purtroppo perché il numero aumenta come parlando del Mediterraneo nel contesto globale un altro flusso di rifugiati che è opportuno segnalare anche se le cifre sono relativamente più basse è quello che dal ancora sulla rotta balcanica e credo che ne abbiate parlato stamattina stiamo registrando degli aumenti significativi di pakistani afghani attraverso la Slovenia tanto che abbiamo suggerito alle autorità locali di stabilire i cosiddetti servizi di informazione previsti dal testo unico sull'immigrazione un breve focus sulla Siria che è la crisi che si protrae da tempo solo per dare un paio di numeri e un paio di considerazioni su quello che è l'aspetto fondamentale ma dove stiamo andando sulla crisi siriana qua le ultime cifre allora 3 milioni e 600 mila persone in Turchia la Turchia che accoglie questo numero di siriani 900 mila altrove vedete i paesi che li hanno accolti maggiormente sono la Germania e la Svezia l'Italia qui non appare perché come ci dice la slide successiva nel flusso di siriani nel sud Europa indicativamente Grecia Italia Spagna e Cipro l'Italia ha avuto un picco nel 2014 penso che chi lavora nel settore lo sa ma sappiamo anche che questo gruppo si è poi spostato a nord guardavo i dati di Istat al primo gennaio del 2018 dei permessi di soggiorno e di siriani in Italia penso che siano credo 2 o 3 mila quindi un numero estremamente ridotto rispetto ad una crisi con questi numeri che ha colpito che ha interessato tanti altri paesi vedete poi le cifre di Spagna e Cipro il flusso ancora continuo anche se numeri più bassi e chi adesso è sotto pressione Cipro è in questi giorni molto sotto pressione magari non raggiunge le headlines dei giornali ma attraverso il nord sapete le problematiche Cipro tra la parte nord e la parte sud il flusso si sta spostando lì altri dati questo illustra ancora di più l'arrivo nel sud Europa quella successiva se non mi ricordo male evidenza le domande d'asilo riflettendo quello che abbiamo poc'anzi detto cioè Germania e Svezia in prima linea quella successiva è su questo è un dato positivo il riconoscimento della protezione quasi un milione di decisioni e 95% con protezione con status e protezione sussidiaria con per ragioni che si legano alle ultime considerazioni che farò sulla Siria la Svezia e la Germania che si sono spostate più su favorire la protezione sussidiaria rispetto allo status di rifugiato e quella successiva se non mi ricordo male invece questo tema e questa è una slide che anch'io mi sono fatto dare dai colleghi un po' mi ha stupito allora EU Turkey Statement che cosa ha prodotto alla fine insieme a tutta un'altra serie di policy di contenimento con la Turchia ma di fatto il numero di persone che sono state trasferite in base all'accordo risulta essere relativamente basso e di Siriani parliamo di 341 persone quindi due anni e mezzo soprattutto Siriani che avevano avuto un'inammissibilità in seconda istanza o una decisione negativa e poi hanno optato per il ritorno volontario l'ultime slide riguardano il resettlement e anche qui è un dall'angolo siriano è quello che dicevo prima il grande gap tra la crisi e il reinsediamento quanti siriani sono arrivati in Europa rispetto a quei numeri stratosferici ancora relativamente bassi 77 mila e hanno interessato soprattutto quei paesi che vedete lì UK Germania Norvegia Francia e Svezia come sempre le responsabilità sono i numeri assoluti limitati e poi condivise sostanzialmente dai soliti paesi vediamo se c'è ancora una slide o se questa è l'ultima no questa è l'ultima situazione mondiale che quindi incide fortemente sulla zona mediterranea e vorrei fare alcune osservazioni su due paesi di interesse il Niger e la Libia prima di finire col Compat allora la Libia so che Marco ne parlerà in maniera approfondita e volevo solo dire due frasi perché poi nel dibattito politico c'è molta confusione noi siamo usciti con una posizione nel 2018 ed è inutile dirlo la Libia non è un paese sicuro non è un porto sicuro nessuno può essere rinviato in Libia in nessun modo e con nessuna creatività è ammessa le condizioni sono drammatiche gli ultimi mesi gli ultimi due mesi di conflitto se volete hanno esacerbato ancora di più la condizione in vari aspetti e sotto vari profili il nostro impegno umanitario che spesso è stato anche messo in discussione quando in qualche modo affiancato a determinate politiche di contenimento è un imperativo umanitario a cui non rispondiamo siamo ancora presenti in Libia anche se con un team ridotto il numero di sfollati libici adesso ha raggiunto il numero di 175 mila che non sono ancora che sono accolti sostanzialmente nelle famiglie allargate non hanno ancora creato un impatto umanitario però parliamo di 170 mila persone e non hanno ancora deciso di spostarsi fuori dai confini come nel 2011 Tunisia da un lato o con tutte le difficoltà attuali Egitto dal dal lato noi abbiamo registrato 60 mila rifugiati il riferimento che volevo fare qui è sui centri di detenzione che quelli governativi lasciamo da parte quelli in mano cosiddetti trafficanti che erano già inaccettabili adesso molti di questi centri di detenzione si trovano in mezzo al conflitto sostanzialmente ma ci sono anche aneddoti di guardie del governo libico che se le sono date a gambe e che hanno lasciato i rifugiati e i migranti nella struttura di detenzione mentre fuori succedeva si combatteva cosa stiamo cercando di fare abbiamo da inizio anno devo leggere i dati trasferito da alcuni di questi centri di detenzione delle persone nel nostro centro a Tripoli che è un centro aperto e che ci serve da punto d'appoggio per portarli fuori dalla Libia ma stimiamo che almeno 3.300 3.800 persone siano ancora in questi centri di detenzione parlo di rifugiati ma ovviamente mi estendo la preoccupazione anche ai migranti che dovrebbero essere portati fuori al più presto e di qui c'è una pressione forte in Italia e in Europa per chiamateli come volete evacuazioni corridoi umanitari ma queste persone devono essere portate fuori dalla Libia l'Italia su questo tema ha organizzato delle evacuazioni dal 2017 con Minniti ma anche con l'attuale governo circa 700 persone devo dirvi la verità che per tutta una serie di altre considerazioni che si possono fare nessun altro paese europeo ha fatto questo passo cioè ha detto c'è una situazione di emergenza prendo le persone e le porto fuori perché non si può aspettare nessun altro paese europeo il centro di Tripoli ci serve anche come transito dicevo per portare le persone in Niger e passo al Niger nel cosiddetto nostro ETM Emergency Transit Facility però prima di parlare di questo il Niger non so quanto sia conosciuto è il paese più povero al mondo tra i più poveri ha tutta una serie di confini con una serie di paesi con grandi problemi e ha attratto l'attenzione europea italiana per i flussi migratori però il Niger basta andare su Wikipedia è un paese con mille problemi con un approccio però molto generoso noi abbiamo come situazioni a noi scusate col governo nigerino una serie di situazioni col confine con la Nigeria ci sono 120.000 persone fuggite dalla Nigeria che il Niger ospita con il nostro supporto dal Mali 56.000 persone ci sono poi gli sfollati del Niger stesso nella zona di Biffa e anche qui sono 104.000 persone più 25.000 nelle ultime due settimane in una regione a nord-ovest del Niger zona Maradi altre 20.000 persone si sono spostate quello che voglio dire quello che voglio dire è che il Niger su cui c'è tanta attenzione per un interesse neanche troppo celato rispetto ai flussi migratori è un paese molto fragile che non ha bisogno solo di fondi ha bisogno di sostegno geopolitico perché ha tutte queste crisi intorno con elezioni anche loro l'anno prossimo in questo quadro complessivo col governo ci si occupa anche dei flussi migratori noi lo facciamo come accennavo prima con questo ITM è un centro dove le persone in Libia vengono fatemi dire non è un termine bello appoggiate parcheggiate dove si svolge l'attività di reinsediamento cioè vengono i casi processati per essere portati poi nei paesi di reinsediamento ora qual è il grosso problema qui e torniamo al discorso della crisi che continuano e della solidarietà che manca è che il governo del Niger ha concesso disponibilità per 1500 persone quindi Libia Niamei capitale del Niger però le procedure sono molto lunghe e gli stati non sono così generosi come dovrebbero essere perché se le persone non escono dal Niger non escono neanche dalla Libia questi sono un po' due paesi che nell'ambito del Mediterraneo sono rilevanti poi potremmo parlare di molti altri dell'Algeria del Chad finisco un paio di minuti solo sul Global Compact so che il livello di conoscenza di solito qui è molto alto e quindi magari dirò delle cose banali che conoscete ci sono due Compact uno sulle migrazioni e uno sui rifugiati quello sulle migrazioni non è stato firmato adottato dall'Italia e dovrebbe avere una verifica parlamentare di cui però io non so quale sia la scadenza c'è però quello dei rifugiati c'è l'Italia l'ha firmato anche se al fine dell'anno scorso alcuni se ne sono sorpresi che fosse stato firmato ma c'è il Compact è un'opportunità non dico di risolvere tutto quello di cui abbiamo parlato adesso magari fosse così però di offrire una piattaforma di discussione perché quello che forse uno dei temi attuali grossi oltre ai contenuti è quello che le regole stesse del multilateralismo della negoziazione internazionale sono sotto scacco non solo sull'asilo ma sull'ambiente sull'economia da parte di alcuni paesi più che altri e se mancano le regole in cui si discute e forse si raggiunge un accordo quantomeno si lavora in quella direzione ecco che il sistema è fortemente a rischio ben prima delle tendenze di ritorno nazionalistica allo Stato parlo proprio di gestione della comunità internazionale quindi quello del Compact è un tentativo dopo l'adozione a dicembre dell'anno scorso il passaggio successivo è il cosiddetto Global Refugee Forum che si svolgerà il 17 e il 18 dicembre a Ginevra sono invitati ovviamente tutti gli stati della comunità internazionale per far cosa? Per fare portare le buone prassi se ci sono e soprattutto fare delle pledges cioè dei contributi negli anni a venire con delle verifiche e il monitoraggio rispetto ai quattro obiettivi del Compact che sono supporto alle comunità che ospitano questo vale per tutti e non solo i paesi che abbiamo visto prima ma volendo anche l'Italia è fondamentale coinvolgere le comunità che ospitano integrazione dei rifugiati soluzioni in paesi terzi quindi allargare il reinsediamento gli altri legali i canali sicuri e quando sia possibile abbiamo visto che è sempre più difficile il ritorno ci sono alcuni aspetti di novità del Compact a cui accenno brevemente il primo che sembra ovvio ma fatemi voglio risottolinearlo la rappresentanza dei rifugiati in questi processi decisionali non solo nel quanto deve essere il pocket money come preferisci prendere il pulma per andare dal centro d'accoglienza alla città sulle policy una partecipazione in una rappresentanza dei rifugiati che sono tra i meglio preparati per poter dare dei suggerimenti delle risposte ecco perché anche col progetto partecipazione con InterSOS c'è la nostra volontà di supportare tutte le refugee based organization in Italia c'è un impegno forte con quello che sono i soggetti che fanno sviluppo anche qui tema noto ma un impegno più concreto nel supporto delle comunità locali da parte dei soggetti di sviluppo e terzo elemento di novità col quale finisco sempre questi interventi tra l'altro c'è stato un convegno organizzato dall'assessore Lombardo qualche mese fa sul Compat molto interessante ci sono città come Bologna Milano che si stanno muovendo in questa direzione è il fatto che si rivolge a tutta la società in inglese si usa l'espressione whole of society tutta la società oltre che a tutto il governo ecco perché finisco sempre con un invito anche per fare una riflessione ciascuno di noi ciascuno di voi perché tutta la società che cosa vuol dire vuol dire tutti i settori nell'educazione parliamo ad esempio di università l'università di Bologna ha posto in essere con gli esteri e con noi una prassi molto positiva dei corridoi universitari ecco se a dicembre si riuscisse con altre università ad aumentare questo numero a creare un network per cui i rifugiati possono entrare in Italia anche per studiare sarebbe già un passo importante anche se i numeri sono piccoli si rivolge alla società civile in senso ampio si rivolge tra gli altri soggetti anche alle imprese e Emilia Romagna ha vanta oltre a tantissime altre qualità di società civile istituzionale anche un settore di impresa molto forte noi stiamo promuovendo e proporremo al Global Forum questa buona prassi che si chiama Welcome è un nostro progetto ed è un progetto di responsabilità sociale cioè le aziende che assumono o formano i rifugiati ricevono questo logo niente di che un riconoscimento sul loro impegno sociale e vi devo dire che l'ultima premazione ad Assolombarda qualche mese fa dove abbiamo premiato anche molte realtà emiliane ma anche grandi marchi come appunto Barilla Sky Gucci sono non giusto rispetto ad altri nomi importanti e sentire non da UNHCR ma dall'amministratore delegato di Gucci come da molti di loro che la diversità e adesso parliamo dei rifugiati ma può essere anche diversità in senso più ampio è legata anche alla fatemi dire la produttività al profitto perché crea un ambiente di lavoro con i dipendenti stessi che crea motivazione che crea entusiasmo è uno degli aspetti della responsabilità sociale delle aziende in Italia ma questo si può fare in prospettiva anche in altri paesi che secondo noi va valorizzato perché e chiudo nella risposta alla contrapposizione rifugiati locali Italian first eccetera eccetera voi noi che lavoriamo con i rifugiati oltre al tema dei rifugiati sono una risorsa lo sappiamo vogliono contribuire alla società ma quello che io sento sempre ascoltato di più è che non sono qui a rubare il lavoro agli italiani ma sono qui a dare indietro a ridare quello che come è stato detto anche prima dai colleghi la società italiana gli dà a ringraziare la guardia costiera che gli ha salvati in mare a ringraziare quei centri d'accoglienza che hanno fatto il loro lavoro in maniera decente e onesta e gli hanno dato delle opportunità alle aziende che credono in loro ecco questo secondo me è un po' la lettura da mettere nel dibattito pubblico grazie 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 a tutti